Gentili telespettatori, buona giornata, supermedia dei sondaggi politici, media degli ultimi 15 giorni confronto con due settimane fa, fatta da Utrend. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito in crescita dello 0,6% al 23,4%, il PD in crescita dello 0,7% al 22,8%, la Lega perde l'1% e scende al 13,4%, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,4% e scende al 10,4%, Forza Italia perde lo 0,4% e scende all'8%, Azione più Europa guadagna lo 0,1% ed è al 5%, Verdi e Sinistra sono al 4%, Italexit al 2,9% guadagna lo 0,3%, Italia Viva al 2,7% costante, Articolo 1 MDP perde lo 0,1% e scende all'1,8%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.